Ernst Mach. Ernst Mach, vissuto tra il 1838 e il 1916, è stato un filosofo e scienziato, esponente di spicco del movimento empirio-criticista, ma poi anche uno dei più importanti pensatori della cultura tardo-ottocentesca. Mach è professore a Vienna dal 1895 e qui svolge attività di vario tipo nell'ambito della ricerca scientifica, in particolare sviluppando l'indirizzo neopositivistico. I suoi testi più importanti sono La meccanica nel suo sviluppo storico-critico dell'83, L'analisi delle sensazioni dell'86, Conoscenze ed errore del 1905. La ricerca di Mach muove dal presupposto che in qualche modo si trova ugualmente in un suo contemporaneo, Avenarius. Anche egli vuole escludere dalla sfera della riflessione tutto ciò che non possa essere ricondotto all'esperienza empirica diretta. Ad esempio, secondo Mach, bisogna rinunciare, sono parole sue, a rispondere a domande riconosciute prive di senso. Questo per inciso sarà anche il presupposto del futuro circolo neopositivistico di Vienna. Il senso manca dove non è possibile mettere in evidenza i dati sensibili che potrebbero suffragare una certa asserzione. Insensata o perfino mitica, appare a Mach l'odierna fede, sono parole sue, nel potere magico della scienza. Si tratta di una fede magica, non razionale, non verificabile. Una fede magica in cui si estrinseca come pretesa di giungere fino in fondo nello sconfinato abisso della natura, nel quale, scrive Mach, ai nostri sensi non è dato penetrare. In realtà, dove non possono giungere i sensi, non vi è nulla. Ma anche per quel che concerne i corpi empirici, che pure sembrerebbero oggetto di esperienza sensibile, occorre evitare pericolosi equivoci, equivoci che scaturiscono da presupposti realistici e fattualistici che Mach combatte con una radicalità anche superiore a quella di Avenarius. Considerati in maniera rigorosa, i corpi empirici, dice Mach, di fatto non esistono come tali, non hanno alcuna consistenza di tipo sostanzialistico. A esistere è sempre e solo una serie di sensazioni semplici, irriducibili, tra loro congiunte in una specie di flusso continuo. Assai frequentemente, Mach preferisce appellare queste sensazioni elementi, per cercare di non dare una connotazione soggettiva e psicologica al proprio pensiero. A ogni modo, la tesi portante della riflessione di Mach è che non sono i corpi che generano le sensazioni, ma sono i complessi di sensazioni che formano i corpi. Le sensazioni, spiega Mach, non sono i simboli delle cose. Semmai è la cosa un simbolo mentale per un complesso di sensazioni relativamente stabili. E ancora, non le cose, ma i colori, i suoni, le pressioni, gli spazi, i tempi, ciò che noi ordinariamente chiamiamo sensazioni, sono i veri elementi dell'universo. Non bisogna intendere queste tesi come un mero ritorno a un vecchio sensismo fenomenistico di tipo berkeleyano, es est percipi. In analisi delle sensazioni, lo stesso Mach, che pure non fa mistero della sua simpatia per Berkeley e per David Hume, rigetta apertamente un accostamento delle sue posizioni a quelle di Berkeley. In effetti, Mach intende la realtà come un che di più complesso rispetto alla semplice risultante di un agglomerato di sensazioni. A questo proposito, scrive Mach, debbo osservare che neppure per me il mondo è una semplice somma di sensazioni. Io parlo semmai espressamente di relazioni funzionali agli elementi. Lo sforzo di Mach è di evidenziare il contenuto non meramente psicosoggettivo dei fenomeni che costituiscono il mondo. Del resto, anche la sensazione in sé e per sé tende in Mach a disgiungersi da un troppo immediato riferimento all'io, al soggetto. L'oggettività della sensazione è garantita dall'oggettività delle sue matrici fisiologiche e dall'elaborazione scientifica alla quale è sottoposta. Uno degli aspetti più notevoli del pensiero di Mach sta nel tentativo di autonomizzare i fenomeni e anche la riflessione sui fenomeni rispetto alla soggettività. Diciamo con Mach che non è possibile interpretare il mondo abbandonando l'idea dell'io, se non si abbandona l'idea dell'io considerato come una realtà stante alla base di tutto. La modernità del pensiero di Mach risiede proprio in questa sua concezione di un mondo senza base, privo di fondamento, vale a dire un mondo in cui semplicemente capitano certi fenomeni che si tratta di spiegare nella maniera più immediata e più sobria, per il tramite dell'impiego di quelle osservazioni empirico-sensoriali e di quelle misurazioni fisico-matematiche che non molto tempo dopo verranno privilegiate dai neopositivisti del circolo di Vienna. Un altro tema del pensiero di Mach che merita di essere sottolineato è l'efficacia con cui egli si sbarazza di tutta una serie di categorie e di principi gnoseologici come la sostanza, l'accidente e lo stesso apparato categoriale di Kant. Di altre nozioni come lo spazio, il tempo e il movimento, Mach fornisce una nuova chiave di lettura in modo empiristico, una chiave di lettura che svolgerà grande incidenza sulla riflessione epistemologica a cavaliere tra 8 e 900. In ambito più specificamente scientifico, Mach, che aveva grande competenza nell'ambito delle scienze fisiche, è uno dei filosofi tardottocenteschi che meglio comprendono certe radicali trasformazioni teoriche del sapere scientifico del suo tempo. In meccanica nel suo sviluppo storico, Mach dà un importante contributo a questa trasformazione ripensando in modo critico i concetti di forza o di causa, ma poi anche ridimensionando l'importanza della meccanica classica, storicizzando le pretese verità universali della scienza, prospettando una concezione non più assoluta ma funzionale della legge scientifica. Con molta lucidità, Mach attribuisce al sapere l'ufficio non già di cogliere essenze naturali, ma di comprendere le strutture e i comportamenti dei dati fenomenici. Nella ricerca scientifica importa solo la conoscenza della connessione dei fenomeni, dice Mach. E in conformità al principio dell'economicità della conoscenza, Mach precisa che le connessioni più rilevanti sono quelle più semplici, più rapide e meglio controllabili. A Mach sta a cuore con la semplicità anche il progressivo allargamento del sapere. E in qualche modo vi è in Mach un filone in qualche modo convenzionalistico-pragmatistico, che si delinea in relazione con quanto l'epistemologia più evoluta del tempo veniva elaborando. Per Mach la scienza è costruzione di simboli, dunque di concetti e di leggi che debbono non già riflettere il reale, ma organizzarlo in relazione agli interessi umani. Mach afferma che la scienza produce finzioni provvisorie, espedienti utili all'orientamento provvisorio e per determinati fini pratici. E' su queste basi che guadagna nuova attendibilità la riproposizione da parte di Mach della natura economica della conoscenza. Il compito portante del sapere scientifico è quello, scrive Mach, di esporre il più completamente possibile i fatti col minore impiego di pensieri. I costrutti teorici della scienza servono unicamente a raggruppare o ad accelerare in modo efficace i fenomeni, o a prevederli con il minor dispendio possibile di energia. Per quel che concerne la realtà del soggetto umano, Mach non riserva ad essa alcun trattamento privilegiato. Come le cose sono solo insiemi di sensazioni o di elementi, così l'io deve essere liberato da qualsiasi specifica consistenza ontologica. L'io è composto degli stessi elementi che si rinvengono sia nelle cose sia negli altri soggetti. Questo, tra l'altro, permette di garantire la relazione tra io e mondo, oltre che la comunicazione intersoggettiva. Certo, scrive Mach, non si può considerare esaurito l'io quando, in modo del tutto provvisorio, si dice che consiste in una connessione peculiare degli elementi. Infatti, bisogna approfondire la natura di tale connessione, sollecitare psicologi, fisiologi e psichiatri a un'analisi più sistematica di tale ente. Ma, in buona sostanza, Mach ripete il proprio rifiuto di considerare l'io come un che di consistente, di oggettivo e di sostanziale. Per Mach, l'io è soltanto un complesso di ricordi, disposizioni, sentimenti, ed è così poco persistente in assoluto come i corpi. In sostanza, si avverte qui la eco del pensiero di Davide Hume e della sua concezione dell'io come fascio di percezioni e come teatro evanescente. Desta grande attenzione il fatto che questa demitizzazione dell'io si svolga in Mach negli stessi anni in cui tanti eroi della cultura europea del tempo, da Nietzsche a Freud, andavano anch'essi decostruendo in più maniere la soggettività dell'uomo. Tra le critiche suscitate dalle dottrine degli empirio criticisti, tra cui Mach, la più celebre è indubbiamente quella che verrà delineata da Lenin nel suo celebre saggio Materialismo ed empirio criticismo del 1909.